E siamo arrivati a sabato cari miei e non è che perché siamo al fine settimana smogliamo, anzi abbiamo delle cose interessantissime, smogliamo domani che è la festa della liberazione, ci liberiamo. Guardando domani abbiamo un piano per la liberazione, sto aspettando una telefonata di Silvio, tu vai avanti. Silvio era partigiano una volta, è stato anche partigiano. Allora io voglio ricordarvi che questo sabato è dedicato alla poesia, perché con noi c'è il professor Nibbi che è un poeta ormai in Cezze conosciutissimo, in Thailandia arriva alla terza puntata, dopodiché abbiamo anche… Bossi ha inteso male la liberazione e l'ha mandato a cacare. Ah, come dicevo io, vabbè. Dopodiché parleremo di lamentele, cioè dei lamenti che ci sono stati segnalati dagli ascoltatori, da chi ci segue su chiaretondo.tv relative al cattivo stato dell'Ai45, ma non è un cattivo stato, è disintegrata praticamente. Detto chiaretondo, ma proprio chiaretondo, stando a Pippi Highland, un'isola in cui Leonardo di Caprio ha girato un famoso film, è un'isola da paradiso. Allora, diciamo a Leonardo di Caprio, Leonardo di Caprio è spiatorio la vera effigie della della tua idea, qual è, leone, serpente o caprio? Qual è quella che è dall'uomo a Dio? È la chimera d'Arizzo, se l'avete riconosciuta. A Caolac, in Thailandia, dopo lo tsunami, qui è tutto mare. I muri sono di mare, i mobili sono di mare, gli alberi sono di mare, le parole sono di mare, la luce è fatta di mare, gli elefanti, le scimmie, i pappagalli sono di mare. Il mare è così largo, così lungo, così tondo, così alto, che nemmeno la luna è riuscita a scappare. Sì, anche la luna è fatta di mare.